buongiorno benvenuti sono luca tremolada sono un giornalista di scienze e tecnologia del quotidiano il sole 24 ore sono anche data journal nel senso che mi occupo di dati e sono qui per una chiacchiera un'intervista con stefano epifani presidente del digital institute docente universitario giornalista quindi anche collega che è qui con noi e autore di un libro estremamente interessante che consiglio sulla sostenibilità digitale buongiorno stefano buongiorno luca e buongiorno a voi tutti allora io partirei proprio da questo dalla dalla sostenibilità digitale e dai numeri visto che insomma siamo a car nella casa dell'istat mai come in questi mesi di covita di lockdown la società italiana ha scoperto il valore e l'importanza dei dei dati siamo rimasti appesi ai bollettini della protezione civile alle 18 tutti i giorni davanti alla televisione e in ogni caso insomma questo conteggio drammatico tragico e quotidiano sui morti positivi è qualche cosa che la nostra società non aveva mai avuto prima anche il giornalismo è sempre stato fatto di battute qualitativo come si dice da come direbbe uno statistico oggi i numeri i dati l'importanza della società da avanzata driven l'importanza di misurare dei fenomeni perché proprio questo che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi il covid sta in qualche modo entrando nell'immaginario collettivo è proprio così stefano è assolutamente così e questo periodo peraltro ha evidenziato due cose in realtà da una parte l'importanza e la centralità del dato rispetto all'interpretazione di ciò che sta succedendo di che ciò che succede quotidianamente dall'altra l'importanza di saperlo leggere perché abbiamo visto proprio in questi mesi quanto deleteria possa essere la sterile lettura di un dato senza parallelamente la comprensione di ciò che quel dato ci ci vuol dare prima luca dicevi che sei un data giornalisti il sole 24 ore ha fatto un lavoro in questo senso importantissimo di traduzione di dati in qualcosa che fosse comprensibile ossia parlando di teoria dell'informazione di quella migrazione dalla dimensione del dato a quella dell'informazione in ultima quella della conoscenza che è fondamentale per trasformare i dati in qualcosa di di fruibile dai cittadini il rischio che si corre senza questa azione è che il dato venga frainteso venga letto in maniera distorta e non venga in generale capito e la sfida che forse ci aspetta più importante è proprio che partendo dalla disponibilità dei dati la cui importanza l'importanza della disponibilità del dato è in dubbia si arrivi anche a una vera e propria cultura del dato che passi attraverso la consapevolezza del fatto che il dato diventa tanto più importante quanto più viene in qualche modo cristallizzato in una dimensione di informazione quindi di conoscenza altrimenti il problema è che cattive letture cattive interpretazioni dei dati possono vanificare lo sforzo fatto per distribuirli ma infatti noi abbiamo anche raccontato il diciamo quello che c'è dietro alla raccolta di dati che poi è stato grande il grande problema il grande nodo della lettura dei dei positivi di questi mesi e c'è un tema un tema che è stato anche sollevato con l'app immuni con il flop di questa applicazione che ci dovrebbe aiutare flop perché perché insomma questa è un'applicazione voluta fortemente da ministro dell'innovazione che ha prodotto 5 milioni se non sbaglio di download il 13 per cento della popolazione con smartphone questo dovrebbe essere una tecnologia di tracciamento è una tecnologia di tracciamento che aiuta che dovrà aiutare le persone a individuare anzi i nuovi focolai però insomma non c'è abbastanza fiducia nel digitale per spingere una percentuale importante della popolazione a scaricarla ecco secondo te qual è il motivo cos'è che non ha funzionato in questo in questo processo che è il primo passo per poi ragionare su una società data driven cioè dare le informazioni dai prossimi i nostri numeri raccontare il nostro comportamento a alle istituzioni alla diciamo un intelligenza digitale che poi permette di di offrire i servizi o di di prendere decisioni politiche un vero e proprio domandone al quale spero di rispondere in maniera dignitosa dicendo che dal mio punto di vista il problema ad origine del dell'app immuni è proprio quella che è mancata una dimensione di visione collegata alla sostenibilità mi spiego andando a riguardare quello che è successo nei diversi mesi quello che abbiamo visto è che spesso noi siamo sempre orientati come dire ad essere technology centred il problema è che la tecnologia in sé difficilmente risolve i problemi se non è orientata a sua volta ad uno ad un orizzonte più ampio il motivo per il quale mi piace parlare di sostenibilità digitale è proprio questo il tentativo cioè di orientare la dimensione il senso della tecnologia verso un livello più alto che è quello della sostenibilità che di volta in volta è sostenibilità sociale sostenibilità economica sostenibilità ambientale quando parliamo di immuni stiamo evidentemente parlando di qualcosa che ha moltissimo a che fare con la sostenibilità sociale e abbiamo visto da subito che da una parte tecnologi e virologi dall'altra esperti di diritto di diritti civili hanno creato una contrapposizione del tutto inesistente adattata partendo ognuno probabilmente con le migliori intenzioni dal partendo dal punto dal proprio punto di vista senza rendersi conto che il proprio punto di vista è spesso parziale e quindi un virologo che dice la privacy è non è un problema anzi per usare le parole precise la privacy una futilità la privacy è qualcosa che non serve ha creato una contrapposizione tra chi pensava che il contact tracing potesse essere uno strumento utile dal punto di vista epidemiologico a contrastare il la diffusione della malattia e chi ha pensato che questa andasse a ledere i dei diritti primari ecco questa contrapposizione ha generato un buzz attorno a questo tema che ha creato da una parte una mancanza di fiducia nei confronti dell'applicazione dall'altra un orientamento non necessariamente corretto da parte di chi ne proponeva in qualche modo lo sviluppo questo è stato il primo elemento il secondo elemento è stato quello per il quale è sempre ai dati torniamo anzi a una gestione sostenibile dei dati torniamo il secondo elemento è stato quindi quello per il quale si è guardato a questa applicazione da un punto di vista prettamente epidemiologico e si è cominciato a dire facendo una sorta di parallelo con l'immunità di gregge questa applicazione deve essere utilizzata ad una percentuale molto molto alta della popolazione in maniera del tutto piana cioè come se un per da per intenderci come se uno uno spedizioniere uno che fa le consegne a domicilio avesse la stessa probabilità di essere contagiato contagiarsi di un anziano che sta a casa e quindi non sono state attuate politiche di differenziazione del target rispetto alle quali distribuire l'app immuni questo ha generato da una parte sfiducia nell'applicazione dall'altra la mancanza di una politica strategica perché la questione è politica non è non è tecnologica non è responsabilità della tecnologia è responsabilità di una politica che doveva dare delle indicazioni e quindi diffondiamola soprattutto verso quelle persone che hanno più possibilità per la loro professione di essere vettori di contagio e comunque politica quando la politica doveva dire e costruiamo un sistema che non consenta nemmeno all'amministrazione di essere in contatto diretto con la fonte del dato che poi è quello che è successo quando abbiamo assistito non solo al fallimento della politica ma anche al fallimento delle istituzioni quando ad oggi stiamo utilizzando un'app che si basa su un sistema su un'infrastruttura che è realizzato da una piattaforma anzi da una coppia di piattaforme e in qualche modo questa coppia di piattaforma è arrivata dove i governi nazionali non sono arrivati proprio perché in grado di gestire non soltanto i dati ma le azioni di milioni di persone poi comunque è stato un flop perché combinato risposta di tutti questi motivi è generato o perché l'applicazione non la conosciamo o perché quelli che la conoscono non si fidano perché hanno creato false convinzioni di lesione della privacy e dei diritti piuttosto che di efficacia inefficacia per il quale nessuno è realmente motivato a implementarlo quindi immuni è un ottimo esempio di come si possa partire da un problema che riguarda la gestione intelligente del dato e senza dare a questa gestione intelligente una finalizzazione orientata alla sostenibilità si possa creare un fallimento completo ecco indubbiamente a valle o a monte di questo flop c'è anche un tema di cultura digitale cultura digitale che gli italiani non hanno se guardiamo l'indice desi che l'indice della commissione europea che misura il livello insomma di progresso nell'agenda digitale del nostro paese siamo sempre a non agli ultimi posti però fermi nelle nella coda di questa classifica da che cosa è dovuto questo a cosa è dovuto questo ritardo secondo te in questo senso le responsabilità sono ampli e ampliamente condivise nella misura in cui nel nostro paese sono decenni che si parla di digitale ma se ne parla so sta soltanto nella misura in cui non è mai esistita una reale politica strategica orientata a rendere il digitale una leva di sviluppo per il paese sono mancati gli investimenti che devono essere fatti in banda larga e questo lo stiamo ancora oggi pagando e lo pagheremo ancora nei prossimi anni malgrado ci si possa impegnare malgrado si possa provare a correre stiamo in ritardo col bull e saremo in ritardo con con la diffusione della banda larga questo fa il paio il fatto che se da una parte non abbiamo le infrastrutture dall'altra non abbiamo formato una classe docente a gestire il digitale come uno strumento e quindi è mancata del tutto salvo nell'ultimo pnsd che in qualche modo ha cercato di mettere una pezza trasformando una figura nell'ambito della scuola l'animatore digitale in una specie di zelig che avrebbe dovuto risolverne tutti tutti i problemi è mancata un'azione fortemente orientata a formare i nostri docenti perché i docenti perché i docenti sono la cinghia di trasmissione del sapere verso gli studenti e noi abbiamo per una fase pericolosissima di diversi anni confuso la natività digitale con la competenza digitale io per anni ho sentito i nostri politici dire che il problema della digitalizzazione si risadrebbe risolto con l'avvento della nuova generazione dei nativi digitali e questa è una bugia non so quanto consapevole che ha fatto danni enormi perché non basta essere nativi digitali per avere cultura digitale l'equivoco nel quale viviamo è che i nostri ragazzi abbiano una cultura digitale in realtà i nostri ragazzi sono addestrati a svolgere delle azioni senza comprendere minimamente quelli che sono le conseguenze e quello che è il contesto nel quale le stanno gestendo di conseguenza stiamo costruendo una vera e propria generazione di scimmiette ammestrate bravissime a utilizzare lo smartphone ma senza avere la minima consapevolezza di ciò che stanno facendo questi due elementi mancanza di infrastruttura e mancanza di cultura di base generano mancanza di consapevolezza di quelle che sarebbero le opportunità del digitale se utilizzati in un'ottica di sostenibilità cioè per favorire quelle tre sostenibilità delle quali abbiamo parlato prima c'è questa consapevolezza oggi no si sta lavorando perché questa consapevolezza si costruisca ancora no perché adesso vedo l'altra gran l'altro grande equivoco quello per il quale si dice che il covip ci ha consentito di colmare decenni di arretratezza e anche questa è una falsità perché il covip senz'altro ci ha messo alla guida di una macchina potentissima di questo digitale che potrebbe risolvere un sacco di problemi il problema è che non ci ha dato la patente quindi oggi abbiamo milioni di persone che sono giocoforza costrette ad utilizzare un digitale del quale non conoscono e non comprendono dinamiche problemi ed opportunità però è indubbio che insomma se c'è un momento in cui il paese può cambiare configurazione usando un termine informatico è proprio questo non solo perché il recovery fund sta buttando un sacco di soldi sul paese ma perché insomma il digitale è stato nominato finalmente come una leva strategica ad oggi i segnali sono come hai detto tu abbastanza controversi proviamo a prenderne in esame alcuni chiederò quindi una risposta su alcuni dei capitoli che sono stati aperti la la rete unica la rete unica insomma hanno deciso chi comanda hanno deciso la parte finanziaria l'italia sappiamo essere un paese dove la banda larga non raggiunge ancora tutti i punti anche perché insomma l'italia è lunga e stretta è un paese complicato però di fatto dalla banda larga dalla connessione non è un mistero che passa una gran parte del progresso di un paese ecco secondo te questa rete unica così come è stata concepita non ti chiedo un commento sulla parte diciamo finanziaria ma sulla parte tecnologica può funzionare andare bene e luca in realtà lei la risposta è nella domanda nel senso che quando tu esordisci giustamente dicendo hanno deciso chi comanda non possiamo non ricordare come il ragionamento attorno non tanto alla rete unica quanto allo scorporo della della rete se sia arenato per moltissimi anni proprio sul chi comanda e il fatto di aver deciso chi comanda e non cosa serve al paese rischia di rappresentare il seme del danno che ci potremmo trovare se questa transizione verso una rete unica non verrà gestita con quella coscienza che non è soltanto orientata a definire gli interessi economici di un attore quanto piuttosto a comprendere qual è l'interesse pubblico perché già oggi abbiamo alcuni segnali del fatto che il problema in qualche modo si pone la rete unica è stata sviluppata e si sviluppa secondo sulla base del principio di monopolio naturale ma noi sappiamo che il digitale rende sempre meno forti i monopoli naturali quindi quello della rete unica non è un'unica strada è una delle diverse strade che si potevano intraprendere non so dire se sia la migliore o la peggiore quello che so dire che con la scusa del monopolio naturale non c'è stata una discussione politica consapevole rispetto a quella che fosse l'opzione migliore oggi ci troviamo con una rete unica che è fatta da due grandi attori che nello specifico parlandone dal punto di vista tecnico seguono due filosofie di implementazione della della fibra che sono totalmente diverse perché bisognerà conciliare un operatore che da sempre dice che bisogna portare la fibra nelle case con un operatore che ha implementato la propria struttura di trasmissione per portarla nei nelle cabine di distribuzione questo fatto dal punto di vista tecnologico non è secondario dal punto di vista degli impatti del cittadino rischia di essere devastante perché dovremmo capire se chi ha la governance e abbiamo appunto capito chi comanda sarà davvero interessato a facilitare lo sviluppo rapido del paese verso un'infrastrutturazione oppure sarà interessato a prolungare al massimo il valore del suo asset che è il rame prometto di non fare più domande con la risposta dentro cloud nazionale altro temone gigantesco e bellissimo nel senso che sappiamo che il ministro dell'istruzione a candidamente dell'istruzione dell'innovazione a candidamente ammesso che l'ottanta per cento della pia si appoggia a servizi di cloud computing extra web lo sapevamo lo sappiamo il la metà anche poco meno della metà del fatturato globale dei servizi di cloud quelli che permettono insomma di lavorare da remoto utilizzando la potenza dei computer fuori cioè non abbiamo più bisogno le aziende di comprarsi un pc o dei server ma lavorano tutto online per usare una semplificazione ecco bene il 50 per cento di questo fatturato va agli stati uniti la la proposta la richiesta un tema un capitolo insomma che si sia aperto su cui si sta ragionando è quello di avere non tanto un cloud nazionale italiano italiano ma di avere insomma una una sorta di razionalizzazione o dei server sicuri sul territorio che possano mantenere le risorse strategiche ecco la domanda è cosa stiamo facendo stiamo andando verso a una sorta di nazionalizzazione delle risorse di tlc ha senso una nazionalizzazione delle risorse di tlc nel momento in cui insomma l'europa certi treni li ha persi non solo l'italia o in ogni caso bisogna cominciare a ragionare a non tanto difendere gli interessi nazionali perché insomma è un po un concetto novecentesco però a mettere in sicurezza la privacy dati il nostro patrimonio e tenerlo sui nostri sui nostri server come la vedi sono un po confuso perché nello stesso momento in cui i ministeri o i ministri parlano del cloud dell'infrastruttura nazionale gli stessi ministeri poi fanno accordi con quelle multinazionali per concedendogli sostanzialmente i dati dei nostri studenti per esempio piuttosto che di intere categorie di professionisti quindi da una parte vogliamo mettere i dati in Italia dall'altra però quei dati in Italia li diamo direttamente a chi pur stando in Italia poi li gestisce da azienda quindi c'è confusione c'è grande confusione sotto il sole secondo me mi sembra francamente velleitario che oggi si possa pensare a una nazionalizzazione del cloud d'altro canto non stiamo nazionalizzando la la rete di trasporto vabbè ma quella è un'altra è un'altra è un'altra storia il punto vero è capire al di là del fatto che un cloud nazionale potrebbe essere in teoria buono o cattivo è capire quanto possa aver senso un cloud nazionale in un mondo che è sempre più privo di confini e in cui stiamo assistendo allo scontro tra grandissime entità lo scontro tra Stati Uniti e Cina oggi è sotto gli occhi di tutti l'Europa ancora non ha una parte ed è un po' un figlio dell'ultimo venuto barcamenandosi tra un estremo e l'altro abbiamo visto cosa è successo quando l'Europa aveva promesso che sarebbe diventata entro dieci anni fa e la costruzione della frase non è grammaticalmente scorretta purtroppo entro dieci anni fa sarebbe dovuta diventare l'economia della conoscenza più forte del mondo abbiamo visto quali sono stati i risultati il punto ancora una volta è quale riteniamo che debba e debba e possa essere il ruolo delle piattaforme e degli stati perché va ricordato che oggi alcune piattaforme hanno un peso che è superiore a quello di moltissimi stati dal punto di vista dell'interesse economico e dell'impatto sulla vita di tutti noi e di conseguenza quale debba essere il ruolo di questi attori nella nostra vita ed è un ragionamento che non può essere fatto in Italia sarà molto difficile farlo in Europa e non a caso dovremmo ritrovare la centralità di strutture come quella delle Nazioni Unite per comprendere quali sono i ruoli di di questi attori oggi ciò che non possiamo permettere è avere una classe di persone di cittadini che non sono a conoscenza di quello che succede quando i loro dati vengono gestiti da questi attori e questo è certo il cloud nazionale è possibile farlo francamente sono abbastanza scettico in termini di possibilità non soltanto tecnologiche ma anche politiche anche anche economiche servirebbe invece definire delle norme chiare di gestione dei dati ma soprattutto servirebbe comprendere quale può essere un ruolo sostenibile da parte di quelle piattaforme che oggi si stanno contrapponendo in termini di importanza e profondità della conoscenza che hanno dei cittadini a quella che hanno i sistemi nazionali e sottolineo come non è detto che si debba essere necessariamente la parte dei sistemi nazionali eh guarda come ultima domanda una domanda di parte come sai io sono un giornalista di dati sono il fondatore di infodata blog per cui insomma abbiamo iniziato ormai nove anni fa a provare a raccontare le notizie misurando i fenomeni dal vostro punto di vista insomma ringraziamo un giorno sì un giorno no istat per che ci danno quei foglietti excel che ci permettono poi di cominciare ad applicare qualche formula matematica a trovare delle correlazioni o trovare provare a leggere dei dei fenomeni ecco nel lavoro quotidiano che che svolgiamo io insieme ai miei collaboratori c'è un dubbio c'è anche una preoccupazione il fatto che insomma eh nel momento in cui vuoi provare a raccontare la realtà o può raccontare dei fatti eh ci possono essere delle manipolazioni anche nel momento in cui si eh trasmettono i dati e soprattutto queste manipolazioni se passano attraverso un linguaggio diciamo rigoroso come quello dei numeri rischiano di essere più importanti delle anzi più efficaci delle fake news classiche nel senso è un conto se io dico che un tal politico ha detto una bagianata a un conto se io do un numero e eh questo numero lo faccio passare come vero. Eh è qualcosa che riguarda l'ecosistema dell'informazione però mi interessa il tuo parere perché da da tecnologo e da osservatore hai la possibilità di unire i puntini. Eh secondo te il giornalismo eh rischia un nuovo un livello insomma di racconto verosimile falsato ancora più efficace rispetto a quello a cui abbiamo assistito oggi a cui assistiamo vedi insomma le fake news di Trump e eh quello che sta eh si dice anche sui social di molti politici italiani. Il eh in sostenibilità digitale ho aperto ogni capitolo con una con una storia la storia di un professionista e una di queste storie è proprio di un giornalista e eh in qualche modo il tentativo era quello di rappresentare esattamente la enorme fase di cambiamento del ruolo della professione giornalistica perché noi Luca questo in qualche modo te lo dico come anche da collega non possiamo nasconderci dietro un un dito e se è vero che l'Istat ha un ha avuto un un'importanza fondamentale nella sua opera assolutamente centrale rispetto alla rispetto al fatto di mettere a disposizione dei dati che sono essenziali per il nostro lavoro è altrettanto vero che giornalisti come te andrebbero presi e protetti come si faceva con i panda nel senso che eh nel momento in cui assistiamo a una fase di profondo cambiamento del ruolo e del senso della figura del giornalista che non è più colui il quale deve cercare l'informazione ma diventa colui il quale ha la responsabilità enorme di elaborarla e di costruire uno strato di senso su questa informazione la costruzione di questo strato di senso passa da due elementi la capacità di leggere interpretare i dati e la capacità di contestualizzarli questi diventano gli elementi centrali della vita della professione del giornalista ma quanti sono i giornalisti che oggi sono in grado di farlo questo si sposa un altro elemento una debolezza enorme della nostra società civile legata ovviamente all'attivismo civico collegato alle tecnologie e ai dati che essendo sostanzialmente assente non assiste giornalisti in quell'opera di rilettura dei dati quindi in qualche modo oggi il tema è molti dati ci sono la nostra incapacità come società civile come categoria professionale di leggerli per come dovremmo rischia ricreare danni faccio soltanto con questo concludo perché non voglio rubarti rubare tempo faccio soltanto un esempio in molti paesi mi sono occupato da tanti anni mi occupo di open government lo faccio in questo momento per le nazioni unite in america latina si è arrivati a rendersi conto del fatto che nelle politiche di open government non sempre sia utile partire dal primo pilastro cioè la disponibilità del dato perché se eh la disponibilità del dato non ha le disponibilità nel dato non corrisponde un livello di cultura da parte di quegli intermediari verso i cittadini che sono appunto giornalisti società civile ricercatori analisti nel dare ai cittadini chiave di lettura l'accesso diretto indiscriminato a questi dati rischia di creare danni e dove si vive in paesi come alcuni paesi dell'america latina dove lavoro caratterizzati da forte instabilità ecco che la disponibilità di questi dati in un'ottica che non è di fake news ma di disinformation o misinformation rischia di essere pericolosa per la stabilità sociale ora questa è una cosa che dirla mi fa venire come dire davvero dei malesseri detta da uno che da sempre è stato un propugnatore del prima cosa dateci dati e sono ancora convinto che importante sia prima cosa veridati ma mi rendo conto che se a quella prima cosa non segue la seconda si ci troviamo di fronte a un fallimento professionale umano e sociale dal quale difficilmente riusciremo a sollevarci ma noi ogni ogni giorno su infodata chiediamo all'istituzione di darci dati sempre in forma anonimizzata perché chiaramente il nostro il nostro compito non è quello di andare a violare la privacy ma di cercare di scattare delle fotografie sempre con un livello insomma di cuoco più dettagliato possibile allora io volevo ringraziare però farmi fare chiedete un'ultima battuta su un tema anche divertente insomma per a per me ti abbiamo visto sui social hashtag andrà tutto bene qual è la tua paura che possa cosa può potrebbe non andare bene qual è il tuo timore in questo momento sempre riferito al al digitale quindi ai processi di modernizzazione del nostro paese qual è l'ostacolo che non vedi affrontato nel nel modo corretto una risposta lampo anche se chiaramente la domanda è da lungo ecco lo abbiamo visto nella gestione dell'emergenza scolastica come lo stiamo vedendo lo vedremo nel tre lavoro come lo vedremo nella ristorazione in altri settori l'incapacità di dare un senso alla tecnologia noi siamo convinti che la tecnologia sia una specie di smart box alla quale attingere quando serve la tecnologia diventa invece uno strumento di riorganizzazione e rimediazione sociale ed economica che va declinata sul lungo termine quello che è successo con la scuola credo che sia assolutamente significativo in questo senso abbiamo pensato ci siamo focalizzati sulla dimensione dei banchi a rotelle ma non ci siamo resi conto che in una gestione complessa perché l'emergenza è un sistema complesso avremmo fare avremmo potuto fare un uso completamente diverso dell'intelligenza artificiale dei dati che abbiamo a disposizione per creare risposte dinamiche alla crisi e soluzioni basate sui learning su blended learning sullo smart working e di volta in volta sull'uso intelligente e settoriale focalizzato e preciso della tecnologia questo non è stato fatto e non è fatto nel nel dialogo comune e nella discussione comune se si esce appunto da quei giornalisti da proteggere come panda o da quegli esperti che parlano spesso a loro stessi lo stessa contrapposizione tra privacy e salute tra privacy e open data è una è una è una contrapposizione artata e falsa che nasce dalla mancanza di consapevolezza e di cultura istat sta facendo un grandissimo lavoro di messa a disposizione di bacini di dati importantissimi con consapevolezza e cultura potremmo costruire davvero valore e non lo stiamo facendo allora stefano io ti ringrazio ringrazio anche per la sintesi perché sembra che abbiamo mandato abbiamo ragionato su tanti tanti temi ricordo sostenibilità digitale il tuo libro ricordo studiate un piccolo appello insomma studiate la matematica studiate la statistica detto dal giornalista fa un po ridere ma siccome mi sono messo a studiare la io 40 anni lo potete fare tutti studiate linguaggi di programmazione e le tecnologie viva lista viva la matematica a presto arrivederci tutti